Erano attesi da molto tempo anche perché il passaggio effettivo nel 2021 delle strade ex provinciali dalle province ad Anas lasciava sperare una possibilità economica di intervento superiore rispetto agli standard ai quali eravamo abituati. Anas ha in pancia una potenza di fuoco da 33 miliardi di euro da investire sull'intera rete nazionale e ora ecco che qualcosa si muove anche a Casal Maggiore e non su una strada qualunque, bensì sull'arteria più importante che taglia in due il centro abitato sia la 343 a Solana. A dare l'annuncio è stato via Facebook il sindaco Filippo Bongiovanni. Anas ha scritto Bongiovanni ci comunica l'avvio dei lavori di manutenzione alla pavimentazione stradale della Solana tra la rotonda Sereni, zona Vico Bellignano e la rotonda Penni. Si interverrà sulla maggior parte del manto stradale. Chi teme lunghe code a causa del traffico dettato dai lavori può però stare sereno. I lavori saranno infatti notturni ha precisato Bongiovanni tanto che è stata chiesto un'ordinanza per la deroga al rumore. Dunque i lavori si svolgeranno in condizioni di traffico ridotto al minimo. I lavori sono infatti previsti tra le ore 21 e le ore 6 con transito a senso unico alternato nei tratti interessati proprio dalle operazioni di sistemazione dell'asfalto. Si parte da Vico Bellignano il 13 luglio. Poi i lavori procederanno fino alla rotonda Penni passo dopo passo, chilometro dopo chilometro per un periodo stimato di 10 notti fino al 23 luglio. Si sentiranno rumori notturni ma a fin di bene avverte il sindaco invitando a portare pazienza dato che l'opera era molto attesa e consentirà di avere asfalti rinnovati e più funzionali. I lavori dunque si esaureranno in soli 10 giorni sull'intero tratto che in totale è stimato in 7 chilometri.